Siamo in gara in linea colonna ed è pronto a partire Giordi Moresi. Partito in questo istante Giordi Moresi. Alto aggardo Ilenia Colonna chiude in 30 secondi e 22. Ready now at the start, Ostrin. Pagliugnate. Ecco in arrivo Giordi chiude la sua gara con 24 secondi e 97. Giordi!